Dopo la sentenza del Consiglio di Stato che ieri ha dato ragione al Comune dell'Aquila che non dovrà così revocare nessuna licenza commerciale rilasciata nel post-sisma in quanto nessun criterio che regola la materia è stato violato, si riapre il dibattito sulla convivenza tra le attività commerciali e i residenti in centro storico. Otto attività su dieci, come sottolinea il nuovo presidente della Confcommercio Aquilana, Angeo Liberati sono infatti di somministrazione, bar, locali e ristoranti, di cui il malcontento dei residenti. Occorre dunque una pianificazione diversa da parte del Comune per incentivare una diversificazione dell'attività in centro storico. Noi stiamo aspettando questo piano commerciale che sono più di 40 anni e ogni amministrazione promette che lo fa, quindi già è previsto su un piano commerciale quello che ci sta. Poi per la tipologia, se noi vogliamo e parliamo a spada track di questo famoso centro commerciale naturale che è il nostro bellissimo centro storico, certo un centro commerciale naturale che sia o artificiale di quelli che ci sono intorno alla città sono più attività, quindi bisogna riscoprire attività che va dal negozietto d'alimentare a riscoprire l'artigiano che può essere il ciabattino, il pasticcere, il fornaio, questo è rivivere un vero centro commerciale. Un qualcosina potrebbe fare il Comune. A preoccupare anche l'interesse di imprenditori della grande distribuzione su un territorio, quello aquilano, che secondo Confcommercio non è in grado di ospitare più grandi strutture. Sul tavolo del Comune non c'è soltanto la galleria commerciale di Centicolella ma anche altri due. L'Aquila demograficamente non è cresciuta in questi anni, dice Liberati, e non è in grado dunque di reggere il volume d'affari necessario. Quello che deve vedere il Comune è che prossimamente di queste autorizzazioni, diciamo nell'immediato futuro, ne arriveranno altri due in seconda commissione e quindi da 2005, 5.000, 7.500, sono due grosse strutture alla fine, perché noi dobbiamo parlare di volume d'affari, una struttura di 2.500 metri. Per reggersi economicamente, facendo il conto economico di qualsiasi struttura, deve fatturare minimo 15 milioni. Se noi moltiplichiamo per tre, sfioriamo i 50 milioni solo per reggersi. 50 milioni in questa città dove li prendiamo, Grazie. Grazie.